Beh, innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi sotto tutti i punti di vista. Allora, Antonio, non mi perculare, va bene? Ma sai, dicono che c'è un mio omonimo che fa i decreti, però devo dire che io ho fatto uscire i miei giocatori dall'Europa molto prima, molto prima, e questa è una dimostrazione di grande responsabilità da parte mia e da parte di tutta l'Intera. Quindi, cioè, direi che forse questa Intera merita un premio. Allora, innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi del Milan che ha insegnato in me setze secondi. Allora, io nemmeno setze secondi devo decidere chi fa giocare insieme a Mandzukic. Adesso Ibra non può giocare queste partite perché deve portare regali in tutto il mondo, giorni di Natale, ma sono contento che squadra è tornata a vincere perché ho minacciato tutti i compagni di squadra che avrei picchiato in queste feste. Oggi i cyborg del Sassuola avevano gli ingranaggi un po' lenti perché ci siano dimenticati di dare l'olio e robò. Oggi sono entrati in partita soltanto al novantunesimo minuto. Ma per quelle sono poi le dinamiche del divertimento dato alla partita di calcio. Io poi mi sono visto la mia ex squadra che è l'Inter contro lo Spezia e devo dire che è stato più divertente la tombola che si fa da 24 sera ininterrottamente fino al 26 dicembre quando poi a un certo punto c'è lo zio che fa il furbo e si dà i numeri per vincere poi lui gli spicci e poi tu ti alzi dal tavolo e ti vorresti martellare gli zebedei con uno di quei martelli pesanti e poi per quelle sono le dinamiche dell'autoflagellazione. Sì sì no 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 una volta dicevano che l'Inter era pazza adesso mi sembra un po' più soporifero voglio dire però affinché i risultati sono così simpatici ma va benissimo voglio passare un bel Natale da questo punto di vista allora sono molto contento voglio dire. Ma sai è stata ecco una vittoria importante perché nonno era facile battere lo Spezia e devo dire che con questo altro gol Romelo si è meritato dei bei regali ecco sotto l'albero di Natale ecco Grazie mille mister tu mi vuoi tanto bene io tanto contento di segnare per Inter per mister Antonio Conte contento di giocare bene sempre eh ma figura di Romelo te lo sei meritato te lo sei meritato ecco sotto sotto tutti i punti di vista cioè voglio dire mica mica ti chiami Sanchez è stata una brutta sconfitta è stata una brutta sconfitta eppure lo sanno lo sanno lo sanno i giocatori che quando giocano così poi mi ingassa mi va o sanga il cervello e non capisco più niente ho spaccato tutto lo spogliatoio che altro che vacanze di Natale non me le devono manca venire a chiedere c'è grande gioia c'è grande gioia perché ha segnato i miei due pupilli ha segnato Ziro ha segnato Luisa Alberto si piazza per il Napoli però non si posso fare niente sto godendo tantissimo scusate se non sto seguendo tanto le gesta del Napoli ma questo periodo come ben sapete io ho gli occhi puntati solamente sul cinepanettone e avresti di giocare i fiorentini ok ogni volta che la vede dici minchia ma perché iscriva questa squadra a campionato di calcio italiana e non in baseball sarebbe molto più forte in baseball ok questa Sampdoria ha ripreso a vincere partite sono molto contento sono molto soddisfatto credevo che Quagliarella ormai che ha quasi la mia età fosse pronto per venire a giocare nel dopolavoro e invece è quello che gli ammolla ancora di più per Natale ho chiesto un regalo che può essere fattibile perché ho chiesto che mi devono valore e secondo me devo capire la possibilità di tornare anche se dov'è il Giovela secondo me si può si potrà realizzare un regalo che si potrà realizzare sicuramente sì sì no no la vittoria di Parma è stata veramente esaltante elettrizzante gli occhi pieni di gioia ormai vedo il gruppo che mi segue totalmente li sto trascinando come una bestia sono diventato un trascinatore incredibile ma secondo me il Parma ha giocato una bellissima partita poi il problema è stato che abbiamo dovuto spegnere la Playstation e ci siamo dovuti presentare in campo però non posso lamentarmi dei ragazzi sì sono molto contento perché ho fatto fare con i miei amici Kulusevski, Ronaldo e sono molto felice perché Ronaldo era tanto dispiattuto di aver sbagliato tanti gol nella ultima partita ho fatto gol anche e mi è dispiattuto tanto perché volevo che segnavano i miei amici che ci vogliono tanto bene siamo molto contenti di aver vinto a Parma un campo sempre difficile io da capitano e leader giustamente ancora al fiatone dopo due giorni perché non bisogna mai fermarsi non bisogna mai mollare fino alla fine come impone la tradizione della Juventus adesso dobbiamo guardare alla prossima partita io mi sto già preparando di corsa così arrivo già col fiatone pronto il campo ha detto che paro ancora come un ragazzino e che ne tiro ancora giù tanti di santi da dal cielo quindi vuol dire che sto ancora bene che sono ancora in forma per giocare devo dire che ho visto un buon giuoco anche da parte del Toro ho visto una linea mantenuta da inizio stagione ad oggi infatti non ha vinto neanche quest'oggi e devo dire che a me piacciono le squadre coerenti è stata una bellissima vittoria siamo tornati a fare tanti goi il Papo non ha giocato perché aveva un incontro di lotta libera e quindi non era disponibile per questa partita la Roma ha giocato bene all'inizio ha segnato anche Zecchi poi dopo tutte le partite che abbiamo vinte mi sembrava troppo e così abbiamo fatto vincere l'Atalanta un altro bellissimo weekend calcistico molto combattuto bellissimi risultati sarebbe stato ancora più un altro weekend calcistico molto combattuto fino all'ultimo respiro sarebbe stato ancora più bello l'avessi seguito perché non ho visto nessuna partita non so un cazzo di risultato è stato ancora più bello